...intitolato Alchimista per strada, braccia cartografiche, identità urbana, archeologia industriale. Allora, con noi a presentare questo progetto, una classe che si è sparpagliata con molti interessi sul territorio, ha voluto dedicare, anche in modo critico, il stato di questo centro, le carte, le marche esistenti, la realtà nuova del loro centro, con il libro critico per vedere ciò che è bello, ciò che è importante, anche ciò che non fa. Il paesaggio è mai da capo, guardando il mondo critico e bisogna educarci reciprocamente a trattarlo nel migliore modo. La scuola interessata è l'Istituto Compensivo Lomis Maraguzzi di Felino, che ha lavorato con l'archivio comunale di Felino, una collaborazione già sperimentata, che ha sempre dato ottimi risultati. La classe coinvolta è una prima classe della scuola secondaria di uno lato, lì si sente, con questo vocione, un meraviglio. Gli studenti coinvolti sono 21 e 4, in rappresentanza, vedo già 2, che ci racconteranno di questo loro percorso, di questa loro riscoperta del territorio.